Ormai Godzilla vs Kong sta prendo il possesso del mio canale Comunque La risposta alla domanda se faranno mai un crossover tra Godzilla vs Kong e Pacific Rim La risposta è no O almeno per adesso non c'è niente di confermato Ecco ora mi sto già immaginando tutte le persone che si aspettavano il crossover tra questi due E avranno già messo dislike al video e avranno già... l'avranno già troppo Tutti ragazzi bentornati o ben arrivati sul mio canale E già un crossover tra Pacific Rim e Godzilla vs Kong Quanto sarebbe bello Beh per il regista Guglielmo del Toro gli piacerebbe un crossover tra i due film Negli ultimi otto anni i film dei mostri hanno fatto un ritorno cinematografico pazzesco Da The Meg a Love and the Monster E ci sono stati un bel po' di film sulle creature da apprezzare Tra due mesi uscirà la più grande rissa che il cinema abbia mai visto Ovvero l'incontro con Kong e Godzilla E prima che la leggenda realizzasse il Monster vs Pacific Rim è entrato nel cinema nel 2013 E' stato il primo film dei mostri giganti americani nei tempi di Cloverfield Pacific Rim è stato diretto da Guglielmo del Toro e molti concordavano che fosse la scelta giusta per il progetto Del Toro ha apportato una vera passione per il genere Kaiju Offrendo creature uniche e scene d'azione mozzafiato Sebbene abbia avuto un andamento mediocre a livello nazionale Anche se a me il film è piaciuto un botto E' stato un successo al bottiglino internazionale Un anno dopo Godzilla nel 2014 è entrato nel cinema Naturalmente i fan hanno riunito i franchise in artwork e video Anche se non sembra probabile che i personaggi si incontrino Su Twitter possiamo vedere un suo post dove parla del trailer di Godzilla vs Kong E spermi il suo desiderio di vedere la rissa tra Monsterverse e l'universo di Pacific Rim Nella roulette di Godzilla vs Kong c'è una scena del roulette gigante Che ruggisce in una città illuminata dal neon Questo mi ha immediatamente ricordato la battaglia di Hong Kong in Pacific Rim E Hong Kong è stata l'ambientazione per la lotta di Gypsy Danger E contro otaki Dovrebbe chiamarsi così Caratterizzata da luci al neon distintive Cioè ha reso la lotta ancora più piacevole e memorabile Che si tratti di un omaggio internazionale o di un intenso Che si tratti di un omaggio oppure di una casualità Sarà un piacere vedere Godzilla calpestare la strada di uno sfondo illuminato dal neon Se dovesse accadere un crossover forse potrebbe coinvolgere Godzilla o un robot di Pacific Rim Che cadono nell'universo uno dell'altro Per quanto riguarda la cronologia entrambi non possono essere Non possono esistere sulla stessa terra Perché Godzilla è apparso nel 2014 Ed è stata la prima volta che il mondo moderno in generale ha realizzato che i mostri giganti Vivevano tra loro E nel 2018 il regista di Pacific Rim ha detto di avere un'idea per un crossover con Kong e Godzilla Ma dipende da leggendari Sarebbe sicuramente interessante se quell'idea si realizzasse Ma purtroppo non sembra che Pacific Rim stia andando avanti nei loro film Quindi spetta a noi fan continuare a riunire Godzilla vs Kong e Pacific Rim Peccato, peccato Io spero che lo facciano veramente un film di Pacific Rim Contando la cronologia tra il primo e il secondo Sono passati circa 5-6 anni Godzilla, no, Pacific Rim la rivolta è uscita se non sbaglio nel 2018 Quindi 18-9-20-21-22-23 Nel 2023 o nel 2024 Magari vedremo un Pacific Rim 3 Perché non posso lasciarmi così Cioè mi ricorda tutti quanti il finale di Pacific Rim Dove dicevano che loro volevano andare dai conquistatori Se non sbaglio si chiamano così Cioè non posso lasciarmi questo finale aperto Io devo assolutamente guardarlo Comunque il film di Pacific Rim sono prodotti da leggendari Che è anche responsabile dell'universo Monsterverse Che include Godzilla e Kong Alcuni fan ritengono che un crossover tra i due sia un dato di fatto Anche se il leggendari ha negato Che uno sia stato preso in considerazione Ma chi lo sa Almeno sulla carta un crossover tra serie ha perfettamente senso Cioè Godzilla e King Kong sono entrambi Kaiju Che combattono altri mostri giganti Quindi non ci vuole un gran salto di immaginazione Per adattare un Pacific Rim a quel contesto Detto questo il franchise di Monsterverse Pacific Rim Operano separatamente Le loro tempistiche sono completamente diverse Quindi sarebbe necessario un po' di riorganizzazione creativa Per farli combinare Comunque adesso ragazzi ci dobbiamo contentare Del trailer di Godzilla vs Kong Sperando magari che ci andanno un altro Oppure che ci dicano come uscirà in Italia Io non credo che i cinema riapriranno Visto come siamo messi Magari tra un mese a cambiare situazione Tra un mese scoprono il vaccino del secolo E il virus E niente ragazzi Quindi voi cosa ne pensate di un crossover tra Godzilla vs Kong e Pacific Rim Sarebbe piaciuto? Vi avrebbe fatto schifo cagare una cosa del genere? Io non credo sia stato fatti Cioè a meno che non abbiano costruito un robot molto più grande Cioè io credo che Gypsy Danger non gli arrivi neanche Oddio aspetta forse Forse gli arriva il collo Non pensiamo a cose che non accadranno forse mai E dietro ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E voi lasciate like Voi lasciate like Iscrivetevi al canale Non riesco a dire più Non riesco a più Voi lasciate like Iscrivetevi al canale Condividete questo video con i nostri video Ciao a tutti Ah no 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 Dimentico dimentico Ho comprato questo libro apposta Se non lasciate like Iscrivetevi al canale Siete veramente dei ignobili Che è privo di dignità Caratterizzato da bassezza D'animo E di sentimento Spregevole Stomaco Uno che per esempio Ti chiede l'uso del bagno Voi non volete essere dei Ignobili vero Allora lasciate like E iscrivetevi al canale Niente Ora ci possiamo stare Ciao ciao